Ciao ragazze, ciao ragazzi, nuovo ambiente, oggi outfit, anzi, stanotte outfit sono in vacanza, sono in Cilento e non dovrei urlare perché è tardissimo vi voglio far vedere l'outfit che ho scelto per questa sera fa un po' freddo, mi piace la giacca, anche se siamo all'unio fino all'unio ho indossato questa pushlet con una catena in bianco per riprendere la giacca classica in lino ho scelto questo vestitino, è un grigio perla con dei fiorellini in rilievo, molto grandi vestito a doppio volant con una banda larga in modo tale da chiudere il tutto e arrotondare dove si deve arrotondare e sfinare dove si deve sfinare molto carino, con la bretellina stretta come accessori ho messo questi occhi lunghi per completare il viso e un anello in pantana, ovviamente il mio solito ciondolino di cagnolino che conoscete benissimo e nulla, come acconciatura una semplice mezz'ora a corto alto perché venivo dal mare e avevo praticamente i capelli bagnati per quanto riguarda il make up è stato molto semplice perché andavamo ovviamente di fretta e ho scelto, visto che avevo gli orecchini che davano sul viola ho preferito fare una piccola sfumatura viola con ripresa di mattita viola sotto è un po' sfatto perché sono passate diverse ore da quando l'ho creato è un semplice gloss sulle labbra per dare un po' di luce questo è tutto, spero che questo video ti sia piaciuto se ti è piaciuto ovviamente ti invito a mettere un po' il licenzo di supporto se ti piacciono i miei video c'è sempre il tastino dell'iscrizione qui giù nell'info box e nulla, ti aspetto nel prossimo video ciao ragazze, ciao ragazzi in gamba